tragedia nei boschi di Fraciscio, frazione di Campodolcino in Valle Spluga. In queste ore infatti è stato individuato e recuperato in prossimità del torrente rabbiosa il corpo senza vita di Dorian Benvenuto Antonelli, 34enne di Novate Mezzola, scomparso dalla sera di Ferragosto. Il giovane aveva partecipato alla festa di San Rocco con un gruppo di amici quando di lui nel corso della serata si sono perse le tracce. I familiari poi non vedendolo rincasare il giorno dopo hanno lanciato l'allarme ai carabinieri ed anche un appello sui social mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Dopo una giornata di ricerche nei boschi di Fraciscio da parte dei vigili del fuoco intervenuti con un elicottero degli uomini del soccorso alpino e del SAGF della Guardia di Finanza, nel pomeriggio di oggi il corpo del giovane Valchiavennasco è stato individuato ai piedi di un dirupo, fatali le lesioni da lui riportate in una caduta verosimilmente accidentale forse dovuta all'oscurità che ha reso particolarmente insidiosa quella zona impervia. Il corpo esanime del giovane è stato recuperato e ricomposto presso la camera mortuaria dell'ospedale di Chiavenna a disposizione dell'autorità giudiziaria.